Quella collana ha un valore di oltre 150 milioni di dollari. Non c'è bisogno di farlo davvero. Perché vuoi fare una cosa così? Perché lo so fare bene. Hanno tutti i numeri. E chi ve l'ha detto? Per mettere a segno. Una vita semplice? Sì. Il colpo del secolo. Niente male. L'hai saputo? Come tutti. Stupenda. Ocean's 8. Lunedì alle 21. Sul 20.